ciao amica di now per questo allenamento da seduto ho bisogno che mi procurate due pesi da un chilo ok è un elastico ok i pesi da un chilo potrebbe essere anche due bottigliette d'acqua tranquillamente da un litro ciascuno o altrimenti una bottiglia di mezzo litro riempito di sassi così ti arrivi fino a un chilo di peso e l'elastico se non c'è l'elastico potete utilizzare anche un paio di calze utilizzate la cosa importante è che è fatto che ti permette di avere un'elasticità quando leghiamo le gambe o quando vogliamo allenare le nostre braccia ok piccola marcia piccola marcia perché anche la marcia ci permette comunque di riscaldarci ok 4 3 adesso voglio che premete destra e sinistra ok come se stessi provando di alzarti dalla sedia ok facciamo insieme 1 2 3 4 piccola pressione verso basso ok piccola pressione piccola pressione 8 7 6 5 4 3 2 divarica le punte ok spingo sui taloni e spingo 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 ancora 8 7 6 5 ottima 4 3 diamo un ricupero le gambe con le braccia apro chiudo apro ok con l'elastico è normale che l'elastico vuole chiudere le braccia ok così il controllo sia l'andata che il ritorno con la velocità ok costante ancora 8 7 6 5 ancora 4 3 2 1 e pulsazione 8 7 6 5 4 3 2 2 2 ancora 8 7 7 6 5 bella musica ci siamo ok torniamo sulle gambe piccole squadre piccolo ok proprio di solo sollevarci poco a poco dalla sedia ancora 8 7 6 5 4 3 divaricate le punte e di nuovo 2 3 3 4 5 5 6 7 ancora 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 ok marci di nuovo io veramente non lo so se avete una mamma o qualcuno che dice io sono troppo troppo sagittario non posso allenarmi clicchi questo video mettermi di fronte dice fanno con la gi vedrai che si può diventare sportivo anche te ok diagonale 2 ancora 3 blocco proprio l'elastico all'altezza della lanca destra e continui in diagonale a tracciare proprio diciamo un linea proprio con la mano senza permettere mai l'elastico a rilassare ancora così tonifichiamo le braccia ancora 4 3 2 1 velocità musicale 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 e cambiamo il braccio cambio il braccio cambio lo blocco sull'anca sinistra e vado in diagonale e torno diagonale torno vado 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 ancora vado 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 dammi altro 4 lenti 3 lenti 2 1 e 2 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e torniamo sul nostro squat o mamma lo so lo so lo sentirai questo lavoro ok continuiamo 1 2 3 piccolissimo 4 5 6 7 8 fai la più veloce 1 2 3 4 5 6 7 8 rilassi varica le gambe ok e vengono avanti spingo su spingo spingo proprio piccole portazioni verso basso e così puoi lavorare anche le gambe glutei da seduto bello no ora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 ok chiudete l'elastico intorno alla vostra ginocchia, ok? Facendo un nodo, ok? Tranquillamente. Di solito vi dico di fare un fiocco, ma qui tranquilli che finiamo in bellezza con le nostre gambe legate. Prendiamo i nostri pesi, divarico le ginocchia e vado su. Un pulsazione in fuori, un pulsazione in fuori con le ginocchia e anche le braccia stanno lavorando. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lascia le gambe in fuori e chiudo, chiudo, ok? Gomenti contro la cassa toracica, ancora, 8, 7, 6, ok? Piccoli ma più veloce, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e chiudo le braccia, apro, ok? Le ginocchia stanno sempre facendo una pulsazione in fuori, apro e scendo, apro e scendo, apro e scendo, ancora, vado, torno, vado, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, 1, relax le gambe e spinto con le braccia, tira, tira, tira ancora, 4, 3, 2, e datemi l'altro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax le braccia, divarica e spingo verso fuori, ok? Spingo, per l'esterno coscia, porto il bustone avanti, fusto avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8 per le gambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax e spinta, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, altro 2, 8, hai finito? Hai finito per 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, e se volete mettere un pizzico più di peso quando te la senti pronta, falla pure, 4, 3, 2, 1, piccolo allenamento dedicato alle braccia, le gambe e anche i glutei, tutto da seduto, l'avreste pensato fosse possibile? Beh, su Now speriamo di sbattare ogni mito immaginabile per aiutarti a godere il viaggio di vivere il tuo corpo come se fosse veramente un parco giochi, perché questo è Now, giorno dopo giorno e che diventi sempre più forte, vedrai grandi soddisfazioni anche su altre aree nella tua vita, ti mando una positività pazzesca, spero che passi una giornata particolarmente bella e ti vedo domani o alla prossima allenamento qui su Now, baci dalle GIL. Ciao!